Il centro elettorale di Siriza, siamo nel centro elettorale di Siriza, già ci sono diversi fotografi, ho incontrato una signora di un movimento spagnolo e adesso sto cercando qualcuno che parli italiano per fare delle domande. E abbiamo mai temore come vicepresidente del partito della sinistra spagnola, europea. La questione è importantissima perché realmente non può avere democracia in le condizioni di austerità e di crisi in cui siamo. È completamente incompatibile. Il centro del sistema sanitario nazionale siamo messi a fare questi ambulatori medici e farmaceutici come qui è stato co-ap, dare una iuta, tutte le persone che rimanevano su una copertura medica e sanitaria. Sì Néa Smyrny, che è una regione con un belio di valore, è un belio di valore, perché che è qui, anche qui, alcuni politici, cattici di Néa Smyrny, vivono le condizioni di sinistra e di nonostra, che si considera un cuore che era il medio alto livello di vita, ci sono dante persone senza copertura sanitaria, è percorso di Néa Smyrny che creare una struttura volantaria di nero buonato, ci si è quello che fa fa' il mazzerico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.